Ola buonasdias vlog numero otto, 100% Brumotti, 100% Brumotti, 100% Brumotti, niente c'è una bella giornata siamo qua vedi c'è di tutto ci sono anche dei pensionati salve pensionato hai visto questo è il campo scuola trial fin da piccolino ho 17 anni quando venivo qua ne ho 36 ciao ragazzi fate parte del mio vlog ho un capo poi abbiamo uno che si sta avvicinando al trial ciao come va bene tutto bene tutto a posto vlog numero otto mi raccomando siete qua queste sono le moto da trial senza sella perché si ha tendenze o raga adesso ho due cameraman d'eccezione chi siete Mirko e Alessandro bene siccome non trovo di meglio adesso prendo questi due nanetti che mi aiutano facciamoli fare una zona allora su da qua sali qua e tra i due alberi alla fine ok vi mangiate un doberman se salgo qua trovo vai ciao ciao questi sono il mio manager mio allenatore bombazza ciao 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 Sì, 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 sì. proteine, adesso momento tamarco, la lampada faccio lentino, 20 minuti così, 20 minuti casati e mando a mente adesso levo le mutande e scrivo la telecamera ma la mia domanda nasce dal cuore, Colli ma dove cazzo vai, ma veramente, ma dove cazzo, basta, siamo in diretta, ciao ti racconto la storia della mia vita, hai montato un bel video, grazie, ma il video che mi hai detto prima a me che faceva cagare blog numero 8, 8? le palle del cruscotti, 9 perché l'8 ce l'hai già, che cazzo, non ne so quante numero è, ciao vi proviamo vai 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 ammazzare per vedere come gira il campione italiano di bike trial di 20-25 pollici purtroppo neanche... eh... next time next time any comments? meglio di no ok ragazzi, next ok, allora su quella, su quella vinto io seconda sfida fra me il cast, vieni stigle va il cast, va a vedere e non ce la fa ce la fa, ce la fa, siamo pari cazzo ridi che arriva di là ragazzi? cioè, perché non lo fai l'incontrare? poste pieno secondo me non te lo vedi neanche ma vedete apposta poste pieno? c'è giovanotti c'è giovanotti c'è giovanotti mi slitta la frizione 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 bravo, tieniti lì vai 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 bravo vai 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 va vai 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 so che raccetti che cosa ne pensi? riprendo per il culo e ridono questo sarà un metro e vento dopo tocca a me comunque quanto sono bravo senti vieni colline non c'è un cazzo da ridere la cambi tu adesso guarda che bel buco se c'è d'ora di camera d'aria e colli vai qui c'è il nostro amico Luca che ci riprende ciao Luca a Bombazza bravo lo dici meglio di me tieni ancora una volta e poi sei libero quanto è? 6 e mezzo vai vai non è 6 e mezzo ma come no devi scoppiare che si spaventiamo tutti 3, 2, 1 grazie Luca sei stato gentilissimo dal pugnetto a Bombazza ciao ok ok oh eh eh ma c'è un tiro ah no vai 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 non pensavo pensavo di essere l'unico fenomeno c'è rimasto male perché ha fatto vai vai Dani ti diamo 3 secondi vai vieni poi dai gufiamolo vai vai che questo lo fai facile dai se lo mangia questo se lo mangia questa se in diretta mondiale su Teletrill questo lo taglieremo mi serve un contrapeso no esplode dai mare dai ma no stuputa tutto vai 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 uno verso l'altro Vedi la naturalezza del poter impennare con una bicicletta da strada che quando si trova sul Fugì della bicicletta, lei ti regalai un piovo, puoi chiacchierare, parlare, le gratte, le famosissime gratte Quante volte ti sei piantato dai Colli? Come ne sono accolto! Esatto! Allora vai qui, qui Io l'ho fatto alla prima, vai! Ragazzi per fare questo filmato, ok, nessuno mi sta mai dietro quando faccio i miei trick Io farò mure, a cazzo eh, andiamo in giro a cazzo, vediamo dove ti fermi E utilizzerò un ex ciclista Ma cosa è ex? Pensionato Ridi eh? Daniele Colli, lo utilizziamo Non prima di passare due dita nel fondello e poi appoggiarle sulla telecamera che metteremo Vai Ma vai, io sono Mr. Infasil Ok Ma vai, io sono i miei tricki 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.